Consigliere, un parcheggiatore è stato licenziato per motivi forse anche inerenti al fatto che il Comune di Teramo sta riappropriandosi del piano raso, sono spariti diversi parcheggi. Abbiamo qui dei vasi adesso ad arredare quella che è l'entrata di una scuola che in realtà dovrebbe aprirsi alla piazza e mancano anche dei catari infrangenti. Dalle immagini potete notare benissimo che questa amministrazione pecca di due aspetti fondamentali. La prima è sulla condivisione perché dall'oggi al domani è stato fatto questo percorso di levare degli stalli senza una condivisione né con le reggenti del classico né con alcuni commercianti. E poi la programmazione perché se tu assessore giustamente perché se la piazza deve tornare pedonale e io sono per la pedonalizzazione ma giustamente devi trovare un'alternativa non futura prima di quello che vai a fare perché devi sanare questa situazione. Teramo è una città che purtroppo non ha tanti spazi di parcheggio. Noi vediamo già in centro il commercio sta morendo e proprio in questa situazione il comune di Teramo che fa invece di incentivare il commercio toglie degli stalli che dà la possibilità ai teramani oppure chi viene da fuori Teramo perché Teramo deve essere attrattiva gli leva i parcheggi. Poi l'assessore parla di inquinamento. Sì giustamente la città di Teramo deve andare verso il green però se tu levi gli stalli non tutti sono di Teramo che vengono a Teramo a lavorare. Ci sono persone che anche da fuori comune viene a Teramo per lavorare e se tu gli togli degli stalli dove loro prima parcheggiavano e non gliene dai un'alternativa per dare la possibilità a loro i parcheggi, loro girano con la macchina inquinando ancora di più. Abbiamo visto anche la classifica di lega ambiente e poi c'è il problema della sicurezza. Anche se sono provvisorie queste fioriere non dovrebbero essere fornite di catarin frangente? Sicuramente c'è un codice stradale che parla chiaro. Sono pericolosissime e ripeto anche se sono provvisorie queste fioriere hanno un costo.